Allora, io penso innanzitutto bisogna il livello della primavera in cui si gioca, primo. E secondo dipende da giocatore a giocatore. Magari c'è il ragazzo che ha bisogno di approcciarsi prima con gli adulti e gli serve più tempo per maturare, no? Magari in primavera può fare la differenza, poi quando ha l'impatto con gente di anche 10 anni in più fa fatica, capito? La Serie D in questo ti aiuta molto. Dopo c'è chi esce dalla primavera ed è subito pronto per giocare in una prima squadra di squadre di Serie A o di Serie B e chi esce da una primavera ha bisogno magari di uno o due anni per adattarsi a questo calcio perché comunque c'è un abisso tra giocare con i pari età o giocare con gente comunque con esperienza e molti più anni di te.